Pronto? Paola, hai sentito di Sanremo? Sanremo? Ma il festival? Eh, dobbiamo andare a Sanremo Ma come perché Sanremo? La Repubblica delle Biciclette La Repubblica delle Biciclette Ricordiamoci che non stiamo arrivando i fricchettoni Cioè, stiamo arrivando con un messaggio politico La Repubblica delle Biciclette Franceschini aveva detto non lasceremo nessuno solo Non è vero, si sono persi tantissimi pezzi per strada Cioè, è proprio lì che è interrotta, fine Cosa facciamo? Non spaventiamoci di questa cosa Partiamo, partiamo, dai Su Sanremo non possiamo fare un evento di spettacolo Perché lì siamo in zona rossa E siamo anche attenzionati tanto Per cui ci stanno proprio con gli occhi addosso Cioè, è una cosa pazzesca questo che stiamo facendo Oh, finché non ci fermano Sai quale è il bello della discesa? È che in discesa i chili contano È importante quello che diciamo Ma il primo articolo della nostra Repubblica dice che siamo una Repubblica fondata sul lavoro Negli ultimi 40 anni è diventata una Repubblica fondata sull'impresa Io non ho niente contro l'impresa Ma se tu inizi dal lavoro, all'impresa ci arrivi Se tu inizi dall'impresa, non è detto che al lavoro ci arrivi È questo quello che sta accadendo La Repubblica delle biciclette La Repubblica delle biciclette